Non ne sono innamorato. O forse sono io che non sono capace d'amare. Non lo so. Tutte le donne che ho avuto non ne ha mai amato a lui. E te che ne sei? Lo sai, se ti facessi un po' dei tatuaggi come questi, forse saresti meno stronzo. Con te non funziona, però, no? Sei stronzo uguale. No, è vero, sono stronzo uguale, ma perché? E questo è quello che mi chiedo. E per te che cosa è vivere? Correre in moto. Non provo le cose che provi tu, Lano. Non è amore. C'è un'altra persona, ma non è una ragazza. Ciao, sono Simone. Simone chi? Con la di scuola, ma quanti ne conosci, scusa? Se ti va stasera e vieni da me a dormire, ci scarica una traduzione, eh? Poi, se vuoi, puoi anche far parte di dormire da noi. Per comodità, eh? Guarda che se è strano. Per che strano? Che strano come ragione, che strano come te vesti, come Barbie. Nel senso che sembra un ragazzo. Non neanche unito come... Non come un'offesa. Anzi. Di dove eri finito? Stavo con Simone. Simone? Sì, lo so, non mi stava simpatico, però... Il cielo stellato sopra di noi. Chi è? Diciamo il caso disperato. Tu sei? Il caso disperato. Manuel. Oh, guarda che non c'è un premio speciale per chi ripete più volte lo stesso anno, eh? Ma perché deve far così? Perché deve prenderlo in giro. Ma a te che ti importa, scusa? Secondo me non è giusto. Che storia. Cosa? Che società. Emanuele e Simone associati. Vi ricordo la Simone e Emanuele associati, eh? Ah, mostriamo associati. È bello. È passato il treno della fortuna davanti. Che hai perso. Allora, regà, non voglio toccare gli assi cartesiani e sicuro il palestra che si sente male. Quello che mi piace. Non so tenere in segreto. Quale segreto? Ho conosciuto uno. Che è un'amica di mia madre, ci avrà trent'anni. Perché se non si è conosciuto? Nel senso che l'ho riportata a casa. Poi quando siamo arrivati ci siamo abbasati. Ci hanno abbasato lei. La famosa domanda manuelica, no? Essere o non essere stronzi? Non esageratemi. Perché tu hai perso la testa per una che manco testa in culo e non te ne accorgi? Affanculo, va. Già, no? No ho non Bakke. Quello che si morta? Ci sarà? Che? Sì, sì. Secondo te noi la stiamo a rispettare la legge morale? Chi se ne frega la legge morale? Infatti che cazzo ci frega?